Buongiorno, benvenuti. In questa lezione affronteremo il tema delle wrapper classes e in particolare di stringhe, di come vengono rappresentati i caratteri in C. Che cosa sono le wrapper classes? Sostanzialmente in un ideale linguaggio di programmazione ad oggetti non ci sarebbe necessità di avere tipi primitivi, tipo interi, caratteri, floating point, eccetera, ma ci sarebbero soltanto oggetti, oggetti che sostanzialmente racchiudono queste caratteristiche, queste informazioni. Per motivi di efficienza in Java è stato deciso di utilizzare invece dei tipi primitivi. Ecco, le wrapper classes sono il corrispondente in termini di oggetti dei tipi primitivi. Quindi sostanzialmente lo scopo di una wrapper class è innanzitutto incapsulare un valore che corrisponde a un tipo primitivo, quindi per ogni tipo primitivo avremo una particolare wrapper class che include quel tipo di valore. Definire una serie di metodi che permettono di fare delle conversioni. Visto che in Java non esistono le funzioni a sé stanti, ecco, il posto dove andare a mettere le funzioni che permettono di andare ad operare sui vari tipi primitivi è naturalmente la wrapper class corrispondente. E infine i tipi wrapper per scelta di design sono definiti come tipi immutabili, ovvero una volta costruito un oggetto wrapper che include un intero, quell'intero resta tale quale, quindi non è possibile andare a modificarlo. L'attributo intero che sta all'interno della wrapper class è privato e non è presente alcun metodo set. Quali sono i tipi primitivi? E le corrispondenti wrapper classes sono quelli elencati qua. Normalmente viene formato il nome della wrapper class a partire dal nome del tipo primitivo, semplicemente mettendo in maiuscolo la lettera iniziale. Ci sono un paio di eccezioni che sono char che corrisponde a character e int che corrisponde da integer. Gli altri seguono questa convenzione. Oltre alle wrapper classes abbiamo anche le stringhe. Le stringhe non sono esattamente le wrapper classes perché non c'è un tipo primitivo che corrisponde alla stringa, ma sostanzialmente permettono di andare a rappresentare un tipo molto utilizzato che è la stringa di caratteri, di cui parleremo poi tra poco. Un primo insieme di tipi wrapper sono i tipi wrapper per i valori numerici, quindi integer, long, double e float. Queste classi sostanzialmente forniscono una serie di metodi per le conversioni numeriche. In particolare esiste integer value, long value, double value, float value che sostanzialmente estraggono il valore intero, long, double, float dall'oggetto di tipo wrapper. Sostanzialmente si tratta di metodi getter che accedono all'unico attributo che sta dentro questi oggetti. Abbiamo poi il metodo toString che è presente in tutte queste classi e che sostanzialmente restituisce la rappresentazione stringa del valore che è presente dentro il wrapper. Infine è possibile utilizzare come metodi statici il nome della classe wrapper punto value of a cui passiamo una stringa e questo sostanzialmente permette di fare la conversione da una stringa a uno qualunque di questi tipi wrapper. Come funzionano le conversioni? Vediamo un esempio per quanto riguarda il tipo int e il corrispondente wrapper integer. Io posso passare dal tipo primitivo int all'oggetto integer utilizzando il costruttore, quindi new integer di mi permette di andare a costruire un oggetto integer a partire da un intero. Il viceversa è possibile utilizzando il metodo int value. Int value prende l'attributo int che sta dentro integer, lo estrae e ce lo restituisce e quindi faccio il passaggio inverso. È possibile da un oggetto integer ottenere la stringa corrispondente tramite il metodo toString dell'oggetto integer. Il viceversa, cioè passare da una stringa a un oggetto integer, è possibile utilizzando il metodo integer.valueof della stringa oppure tramite un costruttore di integer che riceve come parametro una stringa. Questo fa la stessa operazione e prende la stringa e estrae il valore numerico che sta al suo interno. Inoltre è possibile fare delle conversioni da int a stringa. In particolare, per convertire una stringa in un integer posso utilizzare il metodo statico parsint chiamato sulla classe integer, quindi integer.parsint di una stringa estrae il valore numerico che sta dentro la stringa. Viceversa posso fare string.valueof di un valore intero per ottenere la stringa corrispondente. Abbiamo anche la possibilità di andare a fare delle conversioni tramite una classe che si chiama scanner, che può essere inizializzata tramite una stringa e poi permette di chiamare una serie di metodi del tipo nextint, nextlong, nextdouble, eccetera, che sostanzialmente estraggono il valore numerico dalla stringa. Scanner ha in più la capacità di andare a leggere non un unico numero ma tutta una serie di numeri, per cui se io ho una stringa con tanti valori e li voglio leggere tutti, il next mi restituisce il prossimo elemento che si trova nella stringa. la conversione tra valori primitivi e valori wrapper è, abbiamo visto, un po' macchinosa, nel senso che devo andare a creare un nuovo oggetto, new integer, oppure chiamare il metodo intvalue. Questa, diciamo così, complicazione ha portato la comunità che sviluppava Java a decidere di introdurre una nuova caratteristica che si chiama autoboxing, che è stata introdotta dalla versione 5 di Java e che sostanzialmente permette di convertire in maniera automatica da int a integer e viceversa e questo in realtà per tutti i tipi primitivi e le corrispondenti classi di tipo wrapper. Quindi io posso andare a, sostanzialmente, definire un integer e un int e posso semplicemente dire che j è uguale a i, il valore integer, più 5. Questa operazione, prima del Java 5 non era possibile farla, era necessario scrivere i.intvalue in modo da ottenere il valore primitivo e poi fare la somma. In maniera analoga posso scrivere i uguale a j più 2 invece di andare a scrivere new integer del risultato di j più 2. Questa operazione è decisamente più compatta, più facile da leggere, intuibile, è necessario però fare un richiamo perché ovviamente queste due operazioni sono equivalenti, ovvero il compilatore mi converte i uguale a j più 2 in i uguale new integer di j più 2. Questo significa che comunque l'autoboxing richiede la generazione di un oggetto. La generazione di un oggetto normalmente è un'operazione che è costosa perché abbiamo visto che l'operatore new che cosa fa? Deve allocare la memoria, inizializzare gli attributi, chiamare il costruttore e poi restituire il riferimento all'oggetto. Quindi tutta questa serie di operazioni comunque viene fatta in maniera nascosta ma viene fatta e quindi è opportuno fare attenzione quando utilizziamo degli oggetti wrapper invece dei valori primitivi perché questo può portare a delle significative limitazioni in termini di prestazioni del codice. Vediamo a questo punto una serie di altre classi wrapper che permettono di andare a incapsulare caratteri e stringhe. La domanda a cui vogliamo rispondere sostanzialmente è come vengono rappresentati in java i caratteri e le stringhe. Allora se ricordate quando abbiamo parlato di tipi primitivi e valori in generale abbiamo menzionato i caratteri che sono rappresentati in java tramite blocchi di 16 bit che seguono la codifica UTF16. In generale quando abbiamo a che fare dei caratteri noi abbiamo la possibilità di utilizzare i valori letterali esattamente come in C quindi tra singoli apici e doppi apici utilizzando il backslash per andare a quotare i caratteri non stampabili. Dopodiché java definisce una serie di classi e tipi primitivi per andare a rappresentare i caratteri. Se vogliamo andare a rappresentare i caratteri da soli questi sono rappresentati tramite il tipo primitivo char oppure la classe wrapper character. Quando invece andiamo a rappresentare le stringhe non abbiamo nessuna rappresentazione basata sui tipi primitivi quindi mentre in C esisteva il puntatore a caratteri o l'array di caratteri ecco in java questo non rappresenta delle stringhe. In java abbiamo la classe string principalmente ma anche la classe string buffer e la sua variante che si chiama string builder. Iniziamo a questo punto a parlare di caratteri. I caratteri sostanzialmente sono rappresentati dal tipo primitivo char e dalla classe wrapper character. Questa abbiamo detto è immutabile quindi una volta rimetto il caratteri non lo posso più modificare fornisce una serie di metodi di utilità ad esempio is letter, is digit, is space char che permettono di andare a verificare alcune caratteristiche quindi la classe di caratteri che stiamo trattando. Ci sono anche altri metodi di conversione ad esempio to lower e to upper che permettono di convertire il carattere in maiuscolo e in minuscolo. La cosa però più importante da dire a proposito dei caratteri in java è che questi sono non codificati in maniera standard con la codifica ASCII che è quella di default in C ma bensì tramite una codifica che è la codifica Unicode. Che cos'è Unicode? Unicode è uno standard che permette di assegnare un codice univoco a un carattere in sostanzialmente qualunque lingua che esiste al mondo. Sostanzialmente lo standard Unicode è composto da diversi componenti. Abbiamo una specifica generale che mi dà i principi, i code charts che mi danno sostanzialmente la rappresentazione dei diversi caratteri e vari annessi che permettono di sostanzialmente dare alcuni dettagli e un database di caratteri che è sostanzialmente la base per qualunque persona voglia andare a implementare Unicode. Quali sono i concetti di base di Unicode? Sostanzialmente abbiamo il concetto di carattere che è un'idea astratta, ad esempio la lettera minuscola I dell'alfabeto latino. È un concetto che è chiaro a tutti noi. Alla lettera, a questo carattere, quindi concetto astratto, di solito noi associamo istintivamente anche la sua rappresentazione grafica. Ovviamente sappiamo che dato un certo carattere non c'è un'unica rappresentazione grafica, ma ne esistono tantissime. Per questo motivo in Unicode il carattere è distinto da un altro concetto che è quello di glifo, che è proprio la rappresentazione grafica di quel carattere. Una collezione di glifi costituisce quello che in terminologia Unicode, ma anche al di fuori, viene chiamato un font. Quindi un font è una collezione di glifi, ovvero una collezione di rappresentazione di caratteri. Oltre a questi tre concetti Unicode definisce un altro concetto importante che è quello di code point, ovvero la rappresentazione numerica univoca di uno specifico carattere. in Unicode questa rappresentazione sostanzialmente è una rappresentazione che varia da 0 fino a 2 alla 23 meno 1, è un valore che di solito viene rappresentato, per essere leggibile, nel formato U più il valore decimale, il valore scusate, rappresentato in esadecimale, per cui ad esempio la lettera intera I è rappresentata da U più 0069. Quindi il code point della lettera I è questo 69 esadecimale. Ovviamente usando 23 bit è impossibile andare a rappresentare tutti i possibili caratteri su byte, che sono lunghi ovviamente solo 8 bit. Quindi è necessario andare a definire quella che è una codifica che permette di trasferire, di trasformare in maniera univoca code point in una sequenza di byte e anche il viceversa, avendo una sequenza di byte, ricavare il code point e quindi sapere quale carattere viene rappresentato. Unicode definisce alcune codifiche alternative. L'UTF32, che sostanzialmente prende i 23 bit della codifica, di quello che è il code point, li mette dentro un pacchetto da 32 bit, ovvero 4 byte, e sostanzialmente memorizza quello. Ovviamente abbiamo solo 23 bit su 32 utilizzati, quindi abbiamo uno spreco in sé e inoltre vuol dire che ogni carattere, anche quelli più semplici, caratteri latini che normalmente nella codifica ASCII vengono memorizzati su un singolo byte, in questa codifica richiederebbero 4 byte. Quindi, grandissima occupazione di memoria, per cui questa codifica è raramente utilizzata. Un'altra variante, un po' più oculata in termini di uso della memoria, è quella codifica che si chiama UTF16. L'UTF16 è una codifica variabile, perché ovviamente se io ho 16 bit non posso rappresentare tutti i possibili caratteri Unicode. Per cui alcuni caratteri sono rappresentati da un blocco da 16 bit, altri caratteri sono rappresentati da due blocchi da 16 bit. Qual è il criterio che viene utilizzato? Allora, sostanzialmente i codici da 0 fino a D7FF sono rappresentati su 16 bit due byte. I codici ulteriori, quindi da 1000 a 10FFF, cioè l'ultimo possibile carattere rappresentabile in Unicode, sono invece rappresentati su 32 bit, ovvero due blocchi da 16, o 4 byte in totale. Quindi l'idea è che per una buona parte di caratteri sono sufficienti 16 bit, per gli altri caratteri ulteriori invece ne uso 16 più 16. Anche qui c'è un certo spreco di memoria, perché ad esempio per i caratteri normali dell'alfabeto latino, normalmente rappresentati in altre codifiche con semplici byte, qui vengono rappresentati da coppie di byte, quindi ho un certo spreco di memoria. La codifica che è sostanzialmente più compatta è invece quella che si chiama UTF-8, che è la codifica usata in maniera molto ampia per andare a memorizzare codici Unicode su file di caratteri. Quindi se voi accedete a una pagina web, ad esempio, che è stata scritta con caratteri Unicode, normalmente quella pagina web è codificata secondo la codifica UTF-8. Come funziona la codifica UTF-8? Sostanzialmente i codici da 0 fino a 7F vengono mappati direttamente sui byte. Questa scelta è stata fatta in modo da avere una codifica che sia sostanzialmente ASCII transparent, ovvero la codifica ASCII, che è basata su 7 bit, ha esattamente gli stessi caratteri e le stessi code point dei primi caratteri, 128 caratteri della codifica UTF. Quindi se io utilizzo solo i caratteri che sono definiti dall'ASCII, la loro codifica è esattamente la stessa in UTF-8 e in ASCII. Normalmente quando ho invece più byte da codificare, quindi valori con code point più elevati, il bit più alto, che qui non viene utilizzato, va a segnalare la presenza di codifiche che richiedono più byte. In generale buona parte dei code point non ideografici, cioè che fanno riferimento a linguaggi che hanno alfabeti limitati, quindi non usano ideogrammi, sono solitamente rappresentabili su uno o il più due byte. Vi faccio un esempio. Il crattere E accentata, che ha come codepoint C8, quindi U più 00C8, quindi ovviamente superiore come valore al 7F, viene codificato utilizzando due byte, che sono C3 e A8. Questa codifica sostanzialmente permette di andare a rappresentare tanti caratteri che invece non starebbero nei primi 128 e normalmente richiedono semplicemente due byte. Invece caratteri di alfabeti particolari, che so, cinesi o indiani, richiedono spesso più di due byte. Quindi sostanzialmente in Java la codifica che viene utilizzata internamente alla memoria è la codifica UTF-16, mentre la codifica che viene utilizzata per andare a leggere e a scrivere da un file normalmente è la codifica UTF-8. Quindi Java è in grado di gestire più codifiche. Sostanzialmente quelli che sono chiamati set di caratteri. In effetti in Java esiste una classe che si chiama char-set, che permette di andare a rappresentare una codifica di caratteri e di gestire diversamente. Sostanzialmente questa classe ha alcuni metodi che sono default char-set, che è il char-set di default su quella macchina. Attenzione, spesso UTF-8, ma potrebbe variare in funzione del sistema operativo o di altri aspetti. Un metodo che si chiama forname, che restituisce un oggetto char-set dato il nome della codifica e available char-set che mi restituisce un elenco di tutti i char-set che sono definiti su quella macchina e disponibili. I set di caratteri predefiniti sono quelli che vediamo qua. US ASCII che è sostanzialmente la codifica ASCII che funziona su 7 bit, ISO 8859.1 che è una codifica a 8 bit single byte, nel senso che sostanzialmente ho 255 caratteri possibili, che si chiama la ISO Latin numero 1, anche ISO Latin 1 come nome alternativo. L'UTF-8 che è l'UTF-16 di cui abbiamo due varianti, Big Indian e Little Indian, seconda del tipo di architettura di processori su cui stiamo operando, e poi c'è l'UTF-16. Una volta che noi abbiamo un oggetto di tipo char-set abbiamo a disposizione due metodi, decode di un byte buffer in un char buffer ed encode di un char buffer in un byte buffer che permettono sostanzialmente di andare a convertire una sequenza di byte, una sequenza di caratteri e viceversa. Abbiamo poi dei meccanismi che ci permettono di avere un oggetto coder o encoder tramite questi due metodi, get decoder e get encoder. Questi sono degli oggetti che io posso andare a utilizzare passandogli un byte o un carattere per volta e andando a vedere qual è l'output. Attenzione, quando utilizziamo codifica, andiamo a leggere e scrivere da un file o da qualunque sequenza di byte che noi vogliamo interpretare come caratteri, perché è possibile che avvenga quello che si chiama un mismatch di codifica. Esempio tipico che probabilmente avrete già potuto osservare voi andando a osservare alcune pagine web. Allora, torniamo al nostro carattere accentato, che abbiamo detto ha come codepoint C8 e che utilizzando la codifica OTF-8 viene tradotto in due byte che hanno come valori C3 e A8. Il problema è che se andiamo a prendere la codifica ISO 8859.1, che è quella standard per le sequenze di caratteri a singolo byte, questi due byte vengono interpretati come la E con la sediglia sopra e i due punti l'umlaut, che ovviamente sono un po' diversi dalla E accentata. Viceversa, quindi se noi abbiamo scritto, usando una codifica Unicode, la E accentata su un file e poi lo leggiamo, immaginando che invece la codifica sia ISO 8859.1, quello che otteniamo è invece della E accentata questa coppia di caratteri. Viceversa, se noi abbiamo scritto un file, usando la codifica 8859.1, la E accentata, che ha come valore E8, un unico byte, questo valore, quando viene letto, immaginando che la codifica sia UTF-8, sostanzialmente è un carattere non valido. Il risultato qual è? Che sostanzialmente spesso viene rappresentato con un punto interrogativo, quindi questo simbolo che vediamo qua. Quindi è molto importante, quando abbiamo a che fare con dei file o delle sequenze di byte che rappresentano dei caratteri, andare a utilizzare la codifica corretta che sia. Ci sia corrispondenza sostanzialmente tra codifica e decodifica, altrimenti possiamo avere questo tipo di mismatch e avere dei caratteri fasulli che non sono quelli che sono stati effettivamente scritti originariamente. Questo è quello che riguarda sostanzialmente la rappresentazione dei caratteri. Molto spesso però noi non trattiamo i caratteri singoli, ma andiamo a trattare delle stringhe di caratteri. Le stringhe di caratteri in Java sono rappresentate da un paio di classi che sono sostanzialmente string e string buffer. Esiste anche string builder, ma vediamo velocemente, non è molto diverso da string buffer. Qual è la differenza fondamentale tra queste due coppie di classi? Beh, sostanzialmente string, come anche le classi wrapper che abbiamo visto finora, è sostanzialmente immutabile, ovvero una volta che ho memorizzato dentro un oggetto string una sequenza di caratteri, questa non è più modificabile in alcun modo. Mentre invece nella classe string buffer e anche string builder, la sequenza di caratteri è modificabile, quindi io posso andare a inserire degli caratteri, modificarli, estenderla, concatenare, eccetera. Come posso utilizzare queste classi? Iniziamo da string. String è un modo molto agevole di andare a rappresentare delle sequenze di caratteri e può essere utilizzato in maniera molto più semplice rispetto al puntatore a caratteri, al re di caratteri che avevamo in C. Innanzitutto string può sfruttare l'operatore più, che permette di andare a concatenare due string, per cui se vi faccio this is più e concatenation, quello che ottengo è la concatenazione di queste due string. L'operatore più ha anche la capacità di operare non soltanto tra due string, ma tra una stringa e un qualunque altro tipo. Java, sostanzialmente, quando vede una concatenazione tra una stringa e un qualunque altro valore, prende quel valore, genera la sua rappresentazione stringa e effettua la concatenazione. Per cui io posso scrivere pi uguale a più 3,14, x uguale a più x, dove x può essere qualunque tipo. Comunque io faccia questa operazione, Java sarà in grado di convertire x, qualunque cosa sia, in una rappresentazione di sequenze di caratteri, e quindi fare poi quella che è una concatenazione. Una breve panoramica su quelli che sono i metodi principali della classe string. Allora, abbiamo il metodo length, che ci dà la lunghezza della stringa, abbiamo il metodo equals, che ci permette di andare a verificare che due stringhe effettivamente siano uguali in termini di contenuto. Ricordatevi che c'è una certa differenza tra l'uguaglianza in termini di contenuto e l'uguaglianza tra i riferimenti. L'esempio lo vediamo qua. Se diciamo che h è uguale a low, w uguale a world, hw uguale a hello world, quindi la stringa completa, h underscore w uguale a s1 più spazio più s2. A questo punto, hw e h underscore w sostanzialmente sono due stringhe che contengono lo stesso insieme di caratteri. Per cui, se noi facciamo hw equals h underscore w doppio, quello che otteniamo è true. Però, essendo state costruite in maniera diversa, le due stringhe sostanzialmente sono memorizzate in due oggetti diversi. Per cui, hw uguale uguale a h underscore w doppio ci dà come risultato false. Abbiamo poi una serie di altri metodi, tra cui, ad esempio, substring, che permette di andare a ottenere una sottostringa o a partire da un indice oppure da un indice a un altro per estrarre un sotto insieme dei caratteri che fanno parte della stringa. Ricordatevi che questi indici partono da zero. IndexOf va a recuperare all'interno di una stringa principale la posizione, come indice, di una sottostringa. IndexOf parte dall'inizio, mentre invece LastIndexOf parte dal fondo della stringa. Abbiamo poi ValueOf, che prende un qualunque tipo e lo converte in stringa, di interi, floating point, eccetera, e poi abbiamo il metodo Format, che sostanzialmente permette di andare a fare una formattazione che è sostanzialmente analoga a quello che avevamo tramite il metodo, la funzione PrintF in C. Attenzione che questi due metodi sono statici, quindi devono essere chiamati sulla classe stringa, quindi devo fare string.ValueOf e string.Format. Qui vi riporto le conversioni che possono essere fatte, sono sostanzialmente quelle analoghe alla PrintF in C, non mi soffermo, ve lo lascio qui come riferimento nella documentazione. Un'altra classe che è importante è la classe StringBuffer, che è sostanzialmente analoga alla classe String, ma a differenza della classe String è mutabile. String è immutabile, StringBuffer è mutabile. Quindi io posso andare a fare operazioni di modifica della stringa. Ad esempio, il metodo Append permette di accodare una sequenza di caratteri, una stringa, a uno StringBuffer già esistente. Insert permette di andare a inserire una stringa in una certa posizione, quindi sostanzialmente sposta in avanti una serie di caratteri e inserisce la sottostringa. Delete permette di andare a cancellare un intervallo di caratteri da un indice iniziale a un indice finale, l'indice finale in questo caso è escluso. Reverse, ad esempio, permette di andare a invertire la sequenza di caratteri. Quindi se la classe String è palindroma sostanzialmente non succede nulla, altrimenti il primo caratteri diventa l'ultimo e viceversa. Questi metodi sostanzialmente sono fatti in maniera tale da permettere quello che è la concatenazione, per cui append, insert, delete, reverse, tutti hanno come ultima istruzione un return this, quindi io posso scrivere StringBuffer.append.append.append.insert, eccetera, eccetera, eccetera. La differenza tra StringBuffer e String, come vi dicevo, è sostanzialmente che queste operazioni che vediamo qua per lo StringBuffer modificano sostanzialmente il contenuto dell'oggetto, mentre invece la concatenazione tra String che cosa fa? Crea un nuovo oggetto che è la concatenazione di due String esistenti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in termini di prestazioni la concatenazione tra String è estremamente costosa. Andiamo a vedere questi due semplici esempi che partono da una Stringa vuota e tramite un ciclo vanno a concatenare in questa Stringa una serie di interi, o meglio, la rappresentazione Stringa di una serie di interi, da 0 fino a n. Quindi, qui a ogni iterazione S più uguale a I. Quindi S inizia vuota, alla prima iterazione I varrà 0, quindi diventerà S vuota più 0 diventa 0, al secondo giro diventerà 0, 1, 0, 1, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Qui sulla destra vediamo la variante che utilizza invece StringBuffer. Quindi creiamo un oggetto StringBuffer vuoto e andiamo a chiamare il metodo append che accoda il valore termini di Stringa dell'indice I. Il risultato sarà esattamente lo stesso. Ora, se noi eseguiamo questi due frammenti di codice mettendo n, ad esempio, uguale a 100.000, quello che otteniamo è che questa variante che utilizza il più uguale, quindi la concatenazione tra stringhe, impiega circa 12 secondi. Quest'altra variante che utilizza StringBuffer impiega 2 millisecondi. Quindi sostanzialmente abbiamo tre ordini di grandezza e di differenza. Quindi, sebbene questa scrittura sia molto più semplice da leggere e intuitiva, quest'altra è estremamente più efficiente. per cui, in generale, attenzione, quando andate a utilizzare delle stringhe, soprattutto se avete dei cicli annidati che vanno a fare tante operazioni di concatenazione oppure se avete del codice che le cui prestazioni sono importanti, a utilizzare StringBuffer invece di String. voi potete andare a scrivere la prima versione utilizzando le stringhe ma un'ottimizzazione fondamentale in termini di prestazioni può essere fatta da non utilizzare StringBuffer. Un cenno ora a quello che è invece la classe StringBuilder. La classe StringBuilder è sostanzialmente compatibile in termini di metodi con la classe StringBuffer. L'unica differenza è che non è ThreadSafe e non è rientrante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho più Thread in esecuzione nel mio programma e entrambi i due Thread cercano di accedere contemporaneamente allo stesso oggetto di tipo StringBuilder succede un patatrack mentre invece se cercano di accedere a un oggetto di tipo StringBuffer questo è in grado di gestire i due flussi contemporanei in modo che il contenuto del nostro StringBuffer resti coerente. Quindi la classe StringBuilder sostanzialmente toglie alcuni controlli alcune salvaguardie che invece sono presenti nella classe StringBuffer. Qual è il risultato? Beh sostanzialmente che abbiamo un 25% di prestazioni in più nella classe StringBuilder rispetto alla classe StringBuffer. Attenzione questo è veramente significativo il 25% ma rispetto ai tre ordini di grandezza che abbiamo qua cambia poco relativamente poco. Quindi se vogliamo al massimo dell'ottimizzazione possiamo andare a utilizzare StringBuilder invece di StringBuffer ma in generale se vogliamo avere una variazione significativa delle prestazioni quando abbiamo molte concatenazioni lo StringBuffer sostanzialmente è quello che è importante da utilizzare. Con questo sostanzialmente abbiamo chiuso la nostra panoramica iniziale ci sono ancora alcune caratteristiche di dettagli sulle String su cui torneremo più avanti la nostra panoramica iniziale su come vengono gestiti i tipi wrapper in generale in Java che cosa servono e come vengono gestiti i caratteri e le String in Java quindi tramite char utilizzando la codifica Unicode UTF16 in memoria UTF8 quando andiamo a scrivere e leggere da file e come vengono gestite le String ovvero principalmente tramite la classe String ma quando abbiamo la necessità di andare a fare operazioni intense e frequenti di modifica delle String utilizzando possibilmente la classe StringBuffer o addirittura la variante StringBuilder che è ancora più efficiente Che cosa sono gli Array? Gli Array sostanzialmente sono una struttura dati che utilizziamo in tantissimi linguaggi e definiscono una serie ordinata di variabili di valori a cui è possibile accedere tramite un indice in generale in Java gli Array possono contenere sia tipi primitivi ad esempio degli Int che riferimenti agli oggetti ad esempio delle String non contengono direttamente degli oggetti ma esclusivamente dei riferimenti le dimensioni degli Array possono essere definite in fase di esecuzione nel momento in cui viene creato l'oggetto di tipo Array e non possono essere cambiate successivamente gli Array possono essere dichiarati in Java usando due sintassi alternative sostanzialmente abbiamo una sintassi più stile Java quindi int quadre a e una sintassi più in stile c quindi int a quadre la cosa fondamentale da ricordare per quanto riguarda gli Array in Java è che gli Array sono sostanzialmente degli oggetti per cui sono memorizzati nella memoria dinamica nel RIP e possiamo accedere agli Array tramite un riferimento quindi una dichiarazione di questo tipo tutte e due sono valide in Java sostanzialmente definisce un riferimento a un oggetto di tipo Array senza aver creato l'Array effettivo per cui per creare l'oggetto Array effettivo quello che dobbiamo fare sostanzialmente come per tutti gli oggetti è andare a utilizzare l'operatore New quindi dopo aver dichiarato un Array A possiamo andare a crearlo con New Int e in questo caso non usiamo un costruttore normale ma andiamo a passare al tipo di elementi che vogliamo creare tra parentesi quadre la dimensione questa dimensione viene definita quindi nel momento in cui vado a creare l'oggetto Array in maniera analoga se io voglio andare a creare un Array di String dichiarato in questo modo quindi String quadre S uguale New String di 5 questo sostanzialmente mi crea un Array di 5 riferimenti a String oltre a queste inizializzazioni standard che creano sostanzialmente gli Array vuoti è possibile utilizzare quella che si chiama l'inizializzazione statica per cui io posso andare a dire int quadre primes quindi definisce un Array di interi e poi vado a elencare gli elementi tra parentesi graffe la dimensione dell'Array viene dedotta dal numero di elementi che viene inserito tra parentesi quadre l'inizializzazione statica può essere fatta per i numeri per le variabili primitive ma anche per gli oggetti quindi posso andare a dire che un Array di persone P è uguale a aperta quadra newPerson virgola newPerson eccetera eccetera anche in questo caso la dimensione dell'Array viene sostanzialmente dedotta dal compilatore in base al numero di elementi che viene riportato tra parentesi graffe vediamo meglio come funziona l'allocazione degli Array e la loro disposizione in memoria iniziamo dall'esempio più semplice e quindi iniziamo dalla dichiarazione di una variabile A che ha come tipo Array di interi Array di interi quindi questo int quadre sostanzialmente è come fosse il nome di una classe quello è un tipo specifico per cui esisterà un oggetto Array di interi che verrà generato in memoria ovviamente non in questa fase in questa fase abbiamo semplicemente il riferimento che inizialmente probabilmente sarà nullo e nulla nella memoria dinamica nella memoria dinamica iniziamo a creare l'array quando andiamo a utilizzare l'operatore new quindi new int di 6 sostanzialmente crea un oggetto di tipo Array di interi con 6 elementi e quindi i 6 elementi vengono memorizzati nella memoria dinamica in maniera analoga io posso inizializzare utilizzando quella che è l'inizializzazione statica e in questo caso immediatamente questa dichiarazione va a creare un Array di elementi tutti inizializzati come elencato in questo caso a differenza di quanto avviene quando io creo un Array senza specificare alcuna inizializzazione in questo caso tutti gli elementi del mio oggetto Array interi vengono inizializzati al loro valore di default quindi è come se i 6 elementi indicati qua del mio oggetto fossero effettivamente 6 attributi quindi come i costruttori inizializzano tutti gli attributi di un oggetto al loro valore di default che è 0 per i valori numerici così quando io vado a creare un Array il costruttore di questo Array inizializza tutti gli elementi al loro valore di default 0 per i valori numerici vediamo cosa avviene nel caso in cui gli Array non siano di tipi primitivi ma siano di classi String quadra S definisce un Array di String quindi un nuovo tipo che è Array di String uguale New String di 6 quindi che cosa avviene fatto? Viene creato in memoria un Array che contiene 6 elementi che sono 6 elementi equivalenti a variabili tipo String quindi sono sostanzialmente 6 riferimenti a String e vengono automaticamente inizializzati al loro valore di default che è ovviamente null quindi se noi abbiamo un oggetto di una classe che prevede 6 attributi tipo String quando creiamo quell'oggetto automaticamente i 6 attributi vengono inizializzati a null nel caso del Array di String è esattamente la stessa cosa solo che il vantaggio è che in questo caso noi possiamo accedere alle 6 attributi dell'oggetto utilizzando un indice nel momento in cui vogliamo andare a definire un elemento possiamo andare a dire SD1 uguale New String ABCD quindi String ABCD sostanzialmente mi crea un oggetto String nello RIP e quell'assegnazione mi mette nell'elemento con indice 1 quindi il secondo visto che gli indici partono da 0 esattamente come in C un riferimento a quell'oggetto String posso utilizzare l'inizializzazione statica anche per gli Array di oggetti quindi in questo caso P a cosa punterà a un nuovo oggetto che è stato inizializzato con i riferimenti a questi particolari nuovi oggetti creati quando abbiamo a che fare con gli Array esattamente come in C utilizziamo le quadre per accedere a un singolo elemento e quell'elemento a quel punto può essere semplicemente letto oppure scritto a differenza di quanto avviene in C però gli oggetti gli Array essendo degli oggetti hanno la possibilità di avere altri attributi in particolare tutti gli oggetti di tipo Array hanno un attributo che si chiama length che ci dà la dimensione dell'Array ovvero il numero di elementi che sono stati allocati quando è stata fatta l'operazione di new dell'oggetto questo attributo è estremamente utile perché può essere utilizzato per andare a scrivere dei cicli essendo sicuri di non eccedere il limite dell'Array cosa che normalmente rappresenta uno dei problemi principali quando andiamo a scrivere dei cicli sugli Array in linguaggi come il C ricordatevi che gli Array non sono dei puntatori al primo elemento come abbiamo in C quindi non c'entra nulla sono degli oggetti e quindi non funziona l'aritmetica dei puntatori e vengono utilizzati in maniera effettivamente diversa soprattutto nel dettaglio della sintassi da quanto abbiamo in C gli Array oltre a poter essere scanditi con i soliti cicli for usando un indice numerico possono essere scanditi utilizzando una nuova sintassi che è disponibile in Java e che si chiama il costrutto for each per cui la sintassi è simile a quella del ciclo for solo che invece di andare a mettere inizializzazione incremento scusate test e incremento andiamo a mettere una dichiarazione di tipo una variabile e l'insieme su cui andare a fare l'iterazione per cui se voglio andare a iterare su un Array di interi andrò a mettere for int i due punti l'Array questa notazione è decisamente più compatta del ciclo utilizzando un indice e quindi è utilizzata molto spesso questo tipo di espressione può essere utilizzata sia sugli Array che su classi che implementano un'interfaccia iterable che vedremo poi più avanti perché capiremo come funziona correttamente cosa succede quando noi andiamo a fare una scrittura di questo tipo sostanzialmente il compilatore è in grado di generare in maniera automatica il codice che normalmente usa l'indice ma ovviamente il compilatore lo fa in maniera assolutamente corretta quindi con questa scrittura noi tendenzialmente non commettiamo alcun errore siamo sicuri che non usciamo dagli indici specifici dell'array tanto per darvi un esempio se io voglio andare a andare a scandire un array di string che si chiama arg posso fare string arg due punti arg quindi a ogni iterazione la variabile arg assumerà il valore di un nuovo elemento dell'array questo tipo di scrittura col forice è assolutamente equivalente a quest'altra scrittura in cui ho un indice che va da 0 alla lunghezza incrementato e in ogni iterazione vado a mettere nella variabile arg il valore dell'elemento iesimo dell'array arg come vedete la scrittura è decisamente più compatta non dobbiamo andare a gestire degli indici che possono essere difficili da gestire e il compilatore genera del codice che sostanzialmente è ugualmente efficiente rispetto alla versione con gli indici ovviamente esattamente come in C abbiamo la possibilità di avere degli array multidimensionali che però a differenza di quanto avviene in C sono utilizzati in maniera molto più rara perché normalmente noi avendo il concetto di oggetto come contenitore gli array li utilizziamo come un tipo di dato molto di basso livello che viene utilizzato all'interno degli oggetti più che come tipo di dato di primo livello per cui ad esempio noi possiamo andare a definire un array bidimensionale di persone quindi person quadre quadre quindi vuol dire che le dimensioni sono due table uguale new person 2 3 quindi avremo un array di due righe e tre colonne che permette di andare a memorizzare dei riferimenti a oggetti persona e poi possiamo utilizzare table 0 2 per indicare la prima riga e la terza colonna di questo array multidimensionale e andare a memorizzare il riferimento a una persona attenzione questa scrittura in realtà può essere spezzata in due quindi è un array di array di oggetti per cui visto che le righe di fatto sono degli oggetti non è necessario che tutte le righe della nostra matrice abbiano la stessa lunghezza per cui non ho la necessità per cui non ho la necessità di andare a creare tutti gli elementi di una matrice io posso avere una struttura bidimensionale in cui le diverse righe hanno una lunghezza diversa per cui ad esempio posso avere un int quadre quadre triangle che quindi è un array di array di interi che può essere inizializzato in questo modo quindi new int 3 e non dare nessuna informazione sulla seconda dimensione questo che cosa fa crea in memoria un array di tre elementi che sono riferimenti a array di interi a questo punto con un ciclo come questo vado a creare nella posizione iesima di questo array un riferimento un riferimento vado a copiare nella posizione esima di questo array un riferimento a un array di interi che ha come lunghezza i più 1 quindi la prima riga avrà un riferimento a un array che ha un'unica posizione la seconda riga avrà un riferimento a un array che ha due elementi e la terza riga avrà un riferimento a un array che ha tre elementi questo mi dà una certa flessibilità ma può dare adito a errori di programmazione la cosa fondamentale da ricordare quando noi abbiamo a che fare con degli array è che come possiamo vedere qua la creazione di un array con il new sostanzialmente definisce un certo numero di elementi tutti inizializzati a null oppure a zero se sono tipi primitivi quindi newString di 6 non crea 6 stringhe ma crea 6 riferimenti a stringa le stringhe non ci sono le devo creare io esplicitamente dopo una volta che noi ci ricordiamo questo buona parte degli errori di programmazione che vengono fatti con gli array è risolto quindi oltre a creare l'oggetto array devo creare anche i suoi elementi questo è il messaggio semplice da ricordare ogni volta che noi utilizziamo gli array quindi con questo noi chiudiamo questa veloce panoramica sugli array in Java ovviamente è necessario che voi andiate a fare un po' di esercizi che poi vi assegnerò per diciamo familiarizzarvi con l'uso degli array in Java che ha alcune differenze significative rispetto a quello che invece normalmente avviene in C rispetto a quello